E' stato sbagliato perché sono uscito forse un po' troppo presto, mi ha volato un po' che tirava in su col controvento e oggi è stato nettamente più forte e buoni. Con David Godu alla testa della corsa, una buona tactica? Sì, è stato bravo inserirsi nella fuga che è andata via all'ultimo GBM e abbiamo corso bene, quindi anche oggi voglio ringraziare tutta la squadra perché ha lavorato per me in maniera egregia e comunque è un buon secondo posto dopo una vittoria, una volta Catalunia positiva.